e urca ben urca a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di forte ci ritroviamo qui signori per andare a completare la missione di visitare i distributori di benzina in un bus della battaglia vi consiglio ragazzi di atterrare esattamente qui al santuario perchè questo è il bus della battaglia come potete vedere è proprio questo qui il bus corazzato ragazzi è esattamente questo vedete basterà semplicemente prendere questo bus della battaglia qua e dopo andare a visitare i vari cosi della benzina dunque andiamo ragazzi allora quello lì lo lasciamo lì perchè mica che sale e ci rompe le palle dunque ce ne andiamo bene che tranquilli allora ragazzi basterà adesso andare ad aprire la mappa e come potete vedere qui ci sono un botto di benzinaia dunque andiamo in questo in questo in questo diciamo un triangolo molto bizzacro cosi almeno affidiamo la missione nel minor tempo possibile dunque ragazzi andiamo appunto al primo vi ricordo che dovete andare con questo bus dunque sperate di non trovare nessuno in giro cosi almeno fate la missione belle che tranquilli dunque ragazzi andiamo qua come potete vedere adesso ci darà la missione appena arriviamo più o meno ecco qua vedete prima fase completata 1 su 3 ora andiamo magari a canyon potremmo andare poi a bobine anzi andiamo a bobine e poi a boschetto bisuto no no mi sa che è più vicino canyon mi sa che è più vicino canyon ragazzi mi sa che è più vicino canyon dunque vabbè ci vediamo appena arriviamo la ragazzuoli let's fucking go perfetto ragazzi eccoci qui appunto al benzinaio c'era un tipo che per fortuna non è riuscito a salire eccolo qua ragazzi il benzinaio bislacco dunque 2 su 3 come potete vedere e ora ragazzi andiamo infine a bobine bruno volendo possiamo andare anche i jones in realtà effettivamente ora che ci penso eh possiamo andare anche ai jones ma mi sa che è più vicino a bobine bruno dunque andiamo a bobine braule let's go ragazzi ok e ci vediamo ora appena appunto siamo a bobine anzi brunlasche let's fucking go ragazzi a tra poco perché io ragazzi mi ricordo appunto che al santuario si trova questo bus non so se ci sono altre location ovviamente voi scrivetevene nei commenti dove trovare il bus della battaglia perché io so che si trova solo lì al santuario almeno mi ricordavo così ma no non dirmi che si è pagato non dirmi che ti sei pagato zio ok comunque ce l'abbiamo fatta ragazzi abbiamo finito la missione dunque spero che questo video vi sia piaciuto ecco qua 20.000 xp per i cagliardi qui distruggiamo tutto ma sì che Cristo ce ne frega let's go ragazzi dunque ora possiamo anche tranquillamente uscire da sto vi slaccamento di un bus bene raga dunque noi ci possiamo salutare tra pochissimo con uno visto video guida bella ragazzuola un bacione